Musica Le chiedo quindi Presidente se il suo governo intenda finalmente togliere il blocco alle assunzioni per la sanità pubblica e mettere le risorse per un piano straordinario. Le dirò perché non l'avete fatto voi, le dirò collega Schlein che considero un'implicita attestazione di stima il fatto che oggi chiediate a noi di risolvere tutti i problemi che voi non avete risolto nei dieci anni in cui siete stati al governo. Grazie per fidarvi di noi, grazie per fidarvi di questo governo. Ma lei è andata al governo per risolvere i problemi o per continuare a fare opposizione scaricandoli sugli altri? Ci stiamo occupando e ci occuperemo anche di questa eredità pesante. La sua idea di sanità, lo ammetta Presidente, è quella in cui chi è ricco può saltare la lista d'attesa saltandole andando dal privato. E chi è povero invece sta rinunciando a curarsi come hanno fatto 4 milioni di italiani. Non esiste nessuna destra sociale, questa è una destra letale sul diritto alla salute. Lei si sta confermando la regina dell'austerità. Lei ha illuso gli italiani dicendo che sarebbe andata a Bruxelles a far tremare l'Europa. Qui a tremare invece è l'Italia. Quando tu ti presenti al tavolo delle trattative con un deficit al 5,3% che è causato soprattutto dalla ristrutturazione gratuita delle seconde e delle terze case e tenti di spiegare che ti servirebbe maggiore flessibilità, è possibile che qualcuno ti guardi con diffidenza. Lei ci critica. Lei sta cercando di spendere maldestramente i soldi del PNRR. Quei soldi li abbiamo portati noi dall'Europa. Lei invece ha portato meno 12 miliardi. Se noi nonostante questa eredità pessima siamo riusciti a portare a casa comunque un buon compromesso è perché in questo anno di governo abbiamo dimostrato che la stagione dei soldi gettati al vento per pagarsi le campagne elettorali era finita. Ma lei cos'è? Un remira al contrario. Lui tutto quello che toccava trasformava in oro. Lei tutto quello che tocca distrugge. Ci fa una cortesia? Concluda. Faccia anche meno. Penso all'operazione di presunta fusione tra FCA e il gruppo francese PSA che celava in realtà un'acquisizione francese dello storico gruppo italiano tanto che oggi nel CDA di Stellantis siede un rappresentante del governo francese. L'Italia ha sempre ribadito che il popolo palestinese ha diritto a uno stato indipendente, sicuro, economicamente prospero e non condivido la posizione recentemente espressa dal primo ministro israeliano sulla materia. Allora, buongiorno cari telespettatori. Ieri alla Camera è andato in onda, diciamola così, un antipasto di quello che potrebbe essere lo scontro televisivo, il duello televisivo tra Giorgia Meloni e Delislein ma anche lo scontro televisivo che non ci sarà tra Giorgia Meloni e il capo del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Il question time è stato un durissimo botta e risposta, come avete sentito, tra la Premier da una parte e appunto Stein e Conte dall'altra. I temi erano molto sensibili, la sanità, il nuovo patto di stabilità, il super bonus. La Premier, avete sentito le sue parole, è tornata ad attaccare il gruppo Stellantis e la famiglia Elkan a proposito anche delle polemiche di questi giorni, ha detto noi contiamo che in Italia si producano e solo in Italia almeno un milione di auto, insomma questo gruppo ha interesse solo per la Francia. Sulla questione medio orientale ha detto io non condivido l'idea di Netanyahu perché ci vuole uno Stato palestinese. A proposito della giornata di questa giornata, stamattina alle 11 c'è la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione, ci sarà Mattarelle, quindi il tema giustizia tornerà tra qualche ora nuovamente in primo piano, mentre più tardi è attesa la decisione della Banca Centrale Europea sui tassi. E qui ci sono ovviamente molte ipotesi, quella che trova più consensi e che i tassi resteranno come sono, molti, c'è stato un pressing perché potessero diminuire, ma la situazione soprattutto nel Mar Rosso, quello che sta succedendo al commercio mondiale, costringe a maggior prudenza la BCE. Poi vedremo intorno alle 14 ci sarà anche la conferenza stampa di Christine Lagarde. E poi c'è una situazione ancora infuocata in Medio Oriente, ci sono nuove vittime palestinesi per i raid israeliani, c'è il Qatar che starebbe lavorando intensamente per un tentativo di un nuovo cessate il fuoco. Allora, bentornata Sara Manfuso della Notizia. Buongiorno. Ciao Sara, saluto Massimiliano Lenzi, giornalista e scrittore. Ciao Massimiliano. Per la maggioranza abbiamo con noi l'onorevole Stefano Candiani della Lega. Buongiorno. Già stato sottosegretario agli interni qualche tempo fa. Bentornato. Bentornato l'onorevole Davide Faraone d'Italia Viva. Anche lui era stato sottosegretario della Salute. Buongiorno, buongiorno delle spettatori. Salute e istruzione, sì. Allora, vediamo la prima pagina della notizia di oggi, che ha un grande titolo, diciamo, inequivocabile. Arriverà. Ecco, è diesel, piano piano. Dalla Meloni, 90 minuti di balle in Parlamento, Conte Schlein la sbugiardano punto per punto. Cioè, il vostro verdetto è che abbia perso per knockout. Che è successo? Ma in realtà non è il nostro verdetto. Diciamo, chiunque abbia assistito al Premier Time può ben capire che la Meloni ha dovuto in qualche modo arrampicarsi sugli specchi, non riuscendo bene a farlo. Ha cercato ancora una volta, parlando da opposizione più che da maggioranza di governo... Saluto perché il collegamento è buono, perché prima non lo vedevo. Saluto Massimo De Panzoni con direttore della verità. Ciao Massimo, scusa, non ti vedevo prima. Ma adesso mi sono sincerato che ci sei. Buongiorno a te. Ci sono, ci sono. Ecco. Dicevo appunto, la retorica sembra essere ancora quella di chi siede ai banchi dell'opposizione. Quindi con la voglia di addossare la colpa e le responsabilità sempre e comunque agli altri. In realtà oggi è lei a governare. Quindi in primis sulla questione sanità che sembra essere uno dei temi principali al momento, specie ora che è stato approvato in prima lettura il DDL sull'autonomia differenziata che sarà peggiorativo rispetto a condizioni già complesse per quello che è un articolo, l'articolo 32, che vede come diritto sancito costituzionalmente in maniera uniforme in Italia il diritto alla salute indipendentemente che si nasca al nord oppure al sud del paese. Ecco, quello è stato un primo momento diciamo di debacle retorica della Meloni perché lei immediatamente insomma ha cercato di dire che una delle colpe è il tetto delle assunzioni chiaramente della sanità regionale salvo poi dimenticare che nel 2009 era lei allora ministro e quindi era il governo. Insomma, gliel'ha ricordato in maniera molto efficace Elish Line e chiaramente questo è uno diciamo dei campi di scontro maggiore, però ce ne sono molti altri che prima venivano citati e tra l'altro diciamo che non è stato soltanto Andrea uno scontro tra governo e opposizione, ma è stato anche un modo per pesare e misurare le opposizioni stesse perché noi abbiamo visto comunque in questo Premier Time ma anche diciamo Conte e Lash Line testare il proprio perimetro. Cioè tu dici una sorta di derby interno alle opposizioni. In realtà sì perché lì abbiamo visto una triangolazione, quindi opposizione e governo ma anche le opposizioni che si pesano tra di loro. Noi abbiamo le alleanze, le coalizioni, i campi larghi, abbiamo soprattutto le europee adesso. Le europee sempre più alle viste. Massimo, Massimo Devanzoni sentiamo che è il verdetto, il tuo verdetto invece, su quanto è successo ieri la Camera. Beh, è cominciata la campagna elettorale, tre leader si sono punzecchiati mica male, Lash Line più efficace del previsto rispetto ai suoi standard, Conte sempre più tromboneggiante, molto retorico, molto costruito. Io non ho visto questa The Black della Meloni, vero che si è fatta infilare in contropiede sul tetto degli stipendi della sanità, però ragazzi, è vero che c'è anche una tendenza che è un po' di tutti i governi a scaricare le colpe sui governi precedenti, ma se c'è un capitolo in cui non si può pensare di risolvere i problemi nel giro di pochi mesi è la sanità. La sanità italiana è stata martoriata da 10-11 anni di tagli pesantissimi, 37 miliardi in meno, chiusura di centinaia di ospedali. E poi c'è anche l'organizzazione, il numero chiuso, sappiamo molte di queste cose, anzi ce ne abbiamo parlato spesso. Non è che si possa pensare che la carenza di medici si risolva stando al governo per 12 mesi. Questo no, però almeno evitare di peggiorare la situazione. Però se chi ha governato prima ha creato questa situazione, ti viene da dirgli, ragazzi, l'avete fatta voi, adesso ci proviamo. In questo momento sono stati messi più soldi nella sanità di quante ne siano mai stati messi. Per cui c'è qualche tentativo di... Vanno letti però raffrontare il PIL. Sì, sempre in paragone al PIL, però farsi belli del fatto che il PIL era crollato grazie ai lockdown imposti da conto e allora in paragone col PIL stavamo investendo tantissimo in sanità, quando in termini assoluti era di meno. Poi alla fine contano i miliardi, conta quello che c'è dentro. Il contratto ai medici di cui ci lamentiamo che scappino all'estero o agli infermieri che ci lamentiamo che scappino... No, no, posso sentire, prima di andare in pubblicità, così poi coinvolgiamo sia Candiani sia Faraone, voglio sentire Massimiliano Lenzi perché qui c'è una questione, mi pare che qualcuno l'avesse già accennata prima, cioè questo governo ormai governa da oltre un anno, cioè forse nel racconto anche di tutto questo bisognerebbe stabilire una sorta di lodo, cioè basta con l'addossare le responsabilità di chi c'era prima, adesso sono le leve del potere, ce l'ha fortemente in maniera stabile il governo di centrodestra, allora faccia le cose. Sai, in un paese che ha problemi strutturali, ereditati in decenni passati, è chiaro che te un riferimento alla storia del problema che ti ritrovi lo devi sempre fare, perché non è che arrivi improvvisamente dal paradiso con la bacchetta magica. Ma ieri secondo me è andata in scena un'altra cosa, è andata in scena l'antagonismo tra Conte e Lashlein che poi però si dovranno misurare nelle urne, perché c'è un antagonismo televisivo a chi sarà il frontman o la frontwoman contro la Meloni, e poi c'è quello delle urne che pesa perché sono i voti degli elettori. E la seconda cosa è che il governo italiano è quello che sta meglio di tutti in Europa, sta meglio del governo socialdemocratico tedesco che ha i trattori a Berlino, sta meglio di Macron che per far passare dei voti su una legge sull'immigrazione ha dovuto prendere i voti della Le Pen, che fino a pochi anni e anche mesi prima era considerata fuori dall'arco costituzionale. Sta meglio della Spagna, dove Sanchez per andare a governo ha dovuto coinvolgere indipendentisti, lasciando fuori il primo partito per numero di voti presi che sono i popolari. Allora in questo quadro ha una politica estera stabile, al di là di qualche inciampo sulle armi, ma sono dettagli perché poi la Lega ha anche una sua anima giustamente identitaria che deve sottolineare. Però nella sostanza su Ucraina, Israele, Mar Rosso la missione comune con Parigi e Berlino, la politica estera italiana è chiarissima, l'asse atlantico è chiarissimo, i problemi economici l'Italia li ha sempre avuti, non sarà un anno di governo di centro-destra perché nessuno ha detto che sono dei maghi. Misuriamoli sui cinque anni, anche la riforma fiscale è un primo timidissimo segnale che sposta poco perché soldi ce ne sono pochi, però è un primo timidissimo segnale. Allora, subito andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo. Allora, intanto, adesso ritorniamo a occuparci di sanità, volevo, però, insomma, rispetto all'ordine del giorno, ieri a firma del vostro capogruppo, Cagnani Romeo, capogruppo al Senato, cioè un po' un cambiamento di strategia sulla guerra in Ucraina, chiedeva questo ordine del giorno, poi però i titoli di oggi, cosa dicono, è stato svuotato completamente e avete dovuto fare retromarcia, che è successo? No, se non facciamo qualcosa, Cagnani non c'è più niente di cui parlare, diamo un po' di verve all'attività. Al di là delle battute, no, è chiaro che un ordine del giorno non è una risoluzione, però è un tema che giustamente la sensibilità, come poi è stata contornata anche a livello personale, ha messo sul tavolo, perché è indubbio che il governo sta facendo un'azione che si inquadra all'interno dello scacchiere occidentale, di contrasto alla guerra fatta dalla Russia all'Ucraina, è altrettanto giusto anche ogni tanto magari che qualcuno porti la sua sensibilità e dico attenzione, non dimentichiamoci che esiste quantomeno questa situazione, perché anche qua, nelle cronache ormai la guerra in Ucraina è passata in terzo, quarto, quinto piano, però continua ad esistere ed è un problema sia dal punto di vista della stabilità e degli equilibri, sia anche del nostro rischio ad essere sempre esposti più di altri a subire poi le frecce e i dardi dell'economia, perché poi la difficoltà... No, avete fatto irritare i fratelli d'Italia, la Premier... Attenzione, rivalisco sempre un concetto, cioè siamo in un Parlamento, in un Parlamento si ribatte delle questioni, poi la maggioranza è chiamata a un voto e quando c'è il voto si schiera, come sempre, compatta, ma che ci sia anche in un dibattito una voce che dice ricordiamoci che quella faccenda lì va chiusa e sarebbe meglio anche riuscire a chiuderla evitando di continuare indifferenti, quasi come se fosse rutinario, cioè continua a buttare legna sul fuoco perché il fuoco deve ardere sempre. Forse è il caso, se ci sono anche dei mezzi da mettere in campo, di ricordarsi che bisogna riuscire a spegnere il fuoco. Allora, vado da Faraone. Allora, ieri, così aggiungiamo un elemento, è stato presentato il rapporto Sanità del CREA, che è un centro che si occupa di sanità, partecipano a questo rapporto molti economisti sanitari, Capitanati ha il professor Spannonaro che insomma da anni si occupa di questo, e per essere molto sintetici il rapporto dice ci vorrebbero 15 miliardi in più all'anno per il Servizio Sanitario Nazionale, per allinearsi diciamo ai finanziamenti degli altri paesi grandi della UE, la spesa privata, cioè quello che paghiamo dal nostro portafoglio è arrivata a 40 miliardi, ovviamente si sottolina la carenza di medici e infermieri, ci vorrebbe un milione in più tra medici e infermieri e assistenti alle cure. Insomma, questo è il quadro che emerge, è uno dei rapporti più autorevoli che riguarda lo stato della sanità in Italia. Lei si è occupato di sanità anche come sottosegretario, il governo dice noi ci stiamo mettendo tutte le risorse possibili rispetto a quelle che sono i soldi in cassa, più non possiamo fare. Non è vero, nel senso che ieri il balletto Schlein-Meloni sulla sanità è un balletto che mediaticamente sarà pure interessante, è giusto che ci aprite la trasmissione, ma nella sostanza però i pazienti e i medici e gli infermieri non ci campano con quel balletto fra i due. Il tema è come concretamente facciamo delle azioni per dare una risposta, perché quel rapporto lì conferma quello che ci diciamo da tempo, non è una sorpresa per me. E' vero quello che viene detto, cioè che con le risorse di bilancio oggi a disposizione non siamo nelle condizioni di riuscire a trovare quei 15 miliardi di lì. Sono tanti e 15 miliardi. Sì, però io vi ricordo che noi abbiamo avuto una grande opportunità che è il MES sanitario, che non abbiamo sfruttato, è stata una scelta politica del governo. Ma venire le bolle a Cagliani, quando producono la MES a Cagliani gli vengono le bolle. Però qualcuno mi deve spiegare perché il piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha condizioni molto più dure del MES sanitario, lo abbiamo accettato. Il patto di stabilità che hanno chiuso, l'hanno chiuso a condizioni molto peggiori del MES sanitario e quello invece no, che ci servirebbe per allineare il nostro sistema sanitario. Poi faccia chiudere un attimo sulla questione della Meloni ieri in aula. Nessuno ha notato che non c'erano Salvini e Tajani. La Tajani è in missione in Mediorendio. C'erano tutti e due, sì, ho capito. Il tema però è un altro, che il Premier Time programmato alla Meloni è programmato su data della Meloni e si sa preventivamente almeno 15-20 giorni prima. Quindi se ci fosse stata una volontà di presenza dell'intero governo, che c'era in tutte le sue componenti, tranne questi due, è perché la Meloni fa una partita contro loro. Questi due sono due vicepremi. Tutta la vera storia qui qual è? Che noi rischiamo, non soltanto che la Meloni faccia opposizione, sono d'accordo con quello che diceva Sara Confuso poco fa, ma qui rischiamo mesi di campagna elettorale e di mancato governo del Paese. Campagna elettorale a scapito di Salvini e Tajani, i grandi assenti di ieri, perché la Meloni cannibalizzerà loro. Lo scontro e la polarizzazione che va cercando, compreso nel Premier Time, è uno scontro che serve per prosciugare il consenso dei suoi più grandi alleati. Per cui io tutta sta stabilità del governo, sinceramente, nel medio periodo, non la vedo. E chiudo. Fa una campagna elettorale con le risorse nostre, gli italiani. Abbiamo votato ieri mattina il grande spot della Meloni sull'Albania, un miliardo di euro che spenderemo soltanto per consentire a lei di fare una foto opportunity in Albania, per dire che apriamo questo centro, che ci costa un miliardo. tolta le tasche degli italiani, magari proprio per la sanità, un miliardo per realizzare il centro, più le forze dell'ordine tolta la sicurezza delle nostre stazioni, delle nostre pietreie e portate in Albania. Devo fare un passo avanti? Beh, breve replica, però, che ne sia sintetico. Ma io difendo te e tu i malabie. Dice che cannibalizza la Lega. Ma giusto per provocare un po' Faraone. e li faccio notare che nel servizio della Sette hanno fatto vedere la Schlein, hanno fatto vedere Conte, ma l'Italia via proprio manco... E lo so, ma infatti è un torto. Ecco, prima di fare la predica, sui protagonisti della maggioranza... L'intervento ottimo della Boschi, sulle tassa. Però è totalmente ininfluente rispetto al dibattito di opposizione. Però sono qui io. Hanno fatto la scelta perché c'ero io in studio. Ma infatti siamo d'accordo, tu stai in opposizione, io sto in maggioranza, e siamo al posto. No, scherzi a parte. Cioè, è evidente che in un dibattito come quello di ieri viene tutto monopolizzato dalla figura del preco. Se no, non sarebbe il preco. Chiunque lo capisce. E' altrettanto ovvio che dall'altra parte i leader di partiti di maggioranza, ovvero che si stanno scontrando di minoranza, 5 Stelle e PD, cercano di contendersi la leadership dell'opposizione. Anche perché, lo ricordiamo, è la centesima volta che le elezioni europee di giugno c'è un sistema proporzionale. E' più una cosa a favore di telecamera che in termini di questioni di equilibri. Vorrei però, perché qui c'entra e come anche quello che ha detto ieri Giorgio Meloni, spostare un attimo il tiro. Perché? Perché la Meloni ha riparlato di Stellantis. peraltro ieri Stellantis ha diffuso una nota, una secca nota, ma anche molto ben dettagliata, in cui si dice che il gruppo Stellantis è fortemente impegnato in Italia e lo ha fatto negli ultimi anni, ha investito diversi miliardi di euro nelle attività italiane per nuovi prodotti e siti produttivi. Scrive ancora Stellantis in questa nota, oltre il 63% dei veicoli prodotti lo scorso anno negli stabilimenti italiani sono stati, stabilimenti di Stellantis, sono stati esportati all'estero contribuendo così alla bilancia commerciale italiana. E poi, questa nota parla di quello che fanno i singoli stabilimenti. Melfi diventerà il centro di produzione di auto elettriche di medie dimensioni. Cassino si specializzerà nel segmento delle auto elettriche di grandi dimensioni. Termoli è impegnata in una fondamentale riconversione dalla produzione di motori termici a una gigafactory europea, un investimento da oltre 2 miliardi di euro. Lo citiamo perché poi è bene sentire tutte le voci. Perché ho citato Stellantis? Peraltro, la verità di oggi all'intervento di Meloni, rivediamo la prima pagina della verità, dedica un titolo proprio sulla questione rivediamo la verità. ecco, Stellantis è lì sopra il viso di Giorgia Meloni, vedete quel riquadrino celeste, di quello si parla. E allora, c'è una fortissima tensione tra Giorgia Meloni, direi Giorgia Meloni, e Stellantis e il quotidiano La Repubblica, che l'altro giorno aveva fatto un titolo molto polemico a proposito anche del piano di privatizzazioni annunciato dalla stessa Meloni, 20 miliardi in tre anni. Ieri, qui sulla 7, c'era il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, sentiamo che cosa ha detto. La democrazia è fatta di regole. Quando un Presidente del Consiglio si trova delle domande, anche le più scomode, io credo che sia giusto che lei risponda. La domanda che noi ponevamo era quella delle privatizzazioni, la decisione di vendere parte delle partecipate pubbliche per ottenere 20 miliardi di euro. Lei poteva dire di sì, poteva dire di no. Fra le altre cose, il suo Ministro Urso ieri ha ammesso la volontà di vendere il 13% di poste. Anziché rispondere all'inchiesta fatta da Repubblica, lei ha scelto di delegittimare Repubblica schiacciandola sugli interessi privati dell'editore di Repubblica. E questa è una questione di merito profonda, perché delegittimare un qualsiasi protagonista del mondo dell'informazione, che sia Report, che sia Lilly Gruber o che sia Repubblica, significa violare l'articolo 21 della Costituzione o delegittimarlo o svilirlo che prevede la libertà di espressione da parte anche dei mezzi di informazione. Poi si può discutere di tutto, ogni obiezione è legittima, ma attenzione al sistema delle regole, perché in una democrazia il rispetto della libertà di informazione è uno degli architravi della nostra vita pubblica. Allora, voglio ripartire a Massimiliano Lenzi. Insomma, abbiamo sentito molto nette le parole del direttore di Repubblica. Si dice da più parti Giorgia Meloni è allergica ai giornalisti, alle conferenze stampa, alle critiche soprattutto che arrivano da, oltre che dall'opposizione, da alcuni giornali che sono giornali, diciamo, non amici del governo. La vogliamo mettere così? Ma sai, la dialettica tra giornali e politica in Italia, secondo me, fa parte del gioco. Anzi, c'è una certa vicinanza tra giornalisti, certi giornalisti, e politica, certi politici, che negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, nella stampa anglosassone, non trovi. Il ruolo della stampa è misurare e sfrondare il potere. Polemiche con i giornali le hanno fatte tutti in Italia. L'ha fatte Berlusconi, l'ha fatte Renzi, tutti li hanno fatti. Allora, qual è il punto? Repubblica è ancora libera di criticare la Meloni? Sì. Quindi io non vedo un atto di lesa maestà alla libertà di informazione che resta sacra. È chiaro che è un gioco delle parti. Non a caso, se non ricordo male, ieri l'Economist settimanale britannico ha elogiato la Meloni. Giusto? E nelle partecipazioni dell'Economist non c'è anche una quota di Exor? Sì, sì. Allora, qual è il punto? È chiaro che la partita della vita, politica, giornalismo, economia, è un incrocio di interessi e di equilibri, di pesi e di contrappesi. Non dobbiamo fare quelli che cadono dal pero, no? Il politico, è chiaro, fa una campagna. Lei sta facendo una campagna, dice, voi mi attaccate, avete dei pregiudizi su di me, non su quello che faccio, ma per quello che sono. Questa è la sostanza che dice lei. E loro dicono, no, noi facciamo questa campagna. Però, te ti senti in pericolo sul versante della libertà di stampa in Italia? Io francamente no. E spero che resti sempre tale. E spero anche io, Repubblica, vada avanti a scrivere i suoi articoli finché vuole e finché ha notizie, ci mancherebbe. Però non può impedire neanche a un politico di attaccare un giornalista. Diverso è quando si muove per censurarlo. Ecco. E il confine lì non va mai oltrepassato. E il confine lì non va mai oltrepassato. Si potrebbe allargare la discussione che anche rispetto per esempio a trasmissioni televisive che criticano l'operato del governo forse è meglio andarci e affrontare come dire mettendoci la faccia il contraddittorio piuttosto che non andarci o impedire a esponenti del tuo partito di andarci. Non faccio riferimenti a caso, riferimento per esempio a una trasmissione di questa rete che è Piazza Pulita dove oggi in un'intervista a Repubblica il conduttore Fondato Formini dice io ho invitato la Meloni non c'è mai venuto e ha vietato a tutti quelli di Fratelli Italia di venire a misurarsi a confrontarsi in questa rete però lì lo dico con due politici accanto lì c'è un errore che abbiamo commesso noi giornalisti che ci occupiamo anche di televisione troppi politici questi talk si può fare anche informazione senza avere 40 politici ospiti uno prende una misura uno prende una misura che il governo che il governo fa e lo sfronda ma invece è tanto bello il confronto serve poi ai telespettatori e ai lezioni attenzione perché poi il tema torna sempre lì cioè spesso e volentieri quello che conduce il palinsesto e qui non voglio cambiarmi nelle parti ma è la pubblicità che mette in onda tra un inserto e l'altro se la notizia o se la trasmissione è troppo monotona e non c'è un po' di zuffa un po' di pepe ci perde poi l'attenzione al pubblico infatti Faraone sta preparando la tante della Lega stiamo facendo un dibattito sulla massmediologia invece dovremmo parlare invece dovremmo parlare ma noi politici vogliamo in televisione dico che si può fare ottima informazione e rompere le scatole al potere anche se il politico non va ospito non si fa intervistare se va tutto il giornalismo e tocca intervista il giornalismo è anche inchiesta e scavare e misurare ma allora perdonami posso ho aperto un vaso non di Pandora ma della Manfu un attimo un attimo Faraone una battuta rapidissima e poi vado a Faraone che volevi dire Sara? no volevo dire che proprio la Meloni che diciamo sul metterci la faccia sta lì a raccontarci di quanto sia importante se l'è presa anche con la Schlein perché non ha voluto affrontare il dibattito ad Atreiu ci ricordiamo ah Ellie doveva venire qui a confrontarsi allora se vale quello che dice Lenzi ma anche lì uno va dove gli pare scusate ma uno non è che va solo dagli amici uno deve rendere uno va dove gli pare questo è certo quello vale sempre diciamo come principio di libertà individuale però in quanto presidente del consiglio ti aspetti che si offra anche a domande non solo diciamo di pseudo amici ma anche a quelle che apparentemente sono più scomode noi abbiamo avuto conferenze stampa dove non faceva domande nessuno nella conferenza stampa di fin anno ci sono state oltre tre ore di risposta a me ci devono abbassare per tutto l'anno non ho capito come funziona abbiamo avuto conferenze stampa dove domande ce ne erano pochi a presidente del consiglio quindi voglio dire allora è chiaro che c'è una partita politica saremmo ipocriti ogni volta che in Italia va al governo il centro-destra torna soprattutto da una parte del centro-sinistra e da una parte di chi è critico la cappa della censura la libertà il fascismo da quanto si ripara di fascismo in Italia? scusate Faraone su questo credo che noi non dobbiamo cadere nel gioco della Meloni perché il tema vero è la questione delle privatizzazioni lei ha messo in legge di bilancio 20 miliardi di entrate sulle privatizzazioni ha fatto un falso in bilancio perché 20 miliardi di entrate assolutamente sì lei per trovare delle uscite che sono state delle uscite che gli servono poi per chiudere la legge di bilancio e per fare un po' di propaganda ha messo in bilancio 20 miliardi di entrate che non ci saranno mai che dovranno derivare dalle privatizzazioni e io su questo sono disponibile a sfidare chiunque anche fra un po' di tempo per verificare se le dico faccio notare sono falso chiudo fammi chiudere quindi il tema vero è che la Meloni spostando la discussione su Stellantis e su Repubblica non ci fa parlare della privatizzazione che ha in testa per cui io vorrei chiederle ma tu vuoi veramente vendere il 4% di azioni Eni tu vuoi veramente vendere il 14% di poste io vorrei discutere con la Meloni di questo lei non ne parla perché lei sa lei sa benissimo no ma non mi scoccia sto fatto che lei distrae sempre l'attenzione e noi come le pecore andiamo dietro alla sua distrazione il tema sono le privatizzazioni i 20 miliardi messi d'entrata se riuscirà a rispettare quel parametro lì io credo io credo e chiudo che da questo punto di vista lei stia pensando a delle privatizzazioni pensate con un paese con l'acqua alla gola per il debito pubblico per la chiusura di quel patto in quel modo e quindi noi rischiamo di svendere il nostro patrimonio perché per come la sta impostando è così l'Eni è un asset importantissimo e se lo svendono fanno un danno per i prossimi anni per cui portiamo la Meloni a parlare di questo anziché parlare di Stella l'antisagio pubblicità poi riparto da Massimo De Manzoni volevo soltanto dire a Faraone è vero che c'è tutto il dibattito sulle privatizzazioni che rischia di essere offuscato però quando si parla di Stellantis in questo caso si parla della politica industriale di questo paese che non è argomento secondario direi senza flash al di là della polemica su Repubblica di stampa e sacra l'abbiamo detto pensare oggi nel 2024 a un'auto patriottica la vedo complicata molto complicata e con l'auto patriottica andiamo in pubblicità Allora rapidamente volevo sentire anche Massimo De Manzoni sulla questione Meloni Repubblica privatizzazioni sulle privatizzazioni io sono abbastanza d'accordo con non ne vuole faraone bisogna vigilare perché in Italia abbiamo una consolidata esperienza di privatizzazioni infatti anche da gente della parte politica di faraone anzi soprattutto da gente della parte politica di faraone stai pensando a prodi stai pensando a prodi sto pensando a prodi sto pensando ai copitani coraggiosi a D'Alema sto pensando a tutte queste cose molto belle a proposito D'Alema iene datilografi forse qualcuno se lo ricorda per ricordare i rapporti che ci sono sempre stati tra i governanti e i giornalisti quando i governanti non si chiamano draghi perché quando si chiamano draghi ovviamente solo profumo incenso e anche un po' di mir quando capita il problema Stellantis però non è liquidabile così perché sul merito la Meloni dice una cosa giusta noi abbiamo cominciato a denunciarlo come verità all'epoca del governo Conte II quando questo successe nell'ignavia più assoluta dello stesso Conte e del suo ministro Patuanelli era chiarissimo che era una vendita ai francesi era chiarissimo che il governo tanto è vero che inizialmente l'accordo avrebbe dovuto essere con Renault che era tutta un'altra storia intervenne il governo francese impedì l'accordo con Renault impose quello con Peugeot PSA quello che è e adesso ci ritroviamo con il governo francese all'interno del Consiglio dell'amministrazione e le scelte che penalizzano l'Italia possono fare tutti i comunicati che vogliono ogni volta che c'è carenza di materiali e succede spesso ultimamente si fermano i stabilimenti italiani e non si fermano mai gli stabilimenti francesi e questa è la storia terza cosa ma ci vorrebbe una puntata intera forse dovremmo quando Nameloni attacca Gedi per Stellantis un gruppo Repubblica dovremmo interrogarci sul problema annoso dell'Italia Lenzi prima diceva negli altri stati non c'è questa commissione tra politici e giornalisti verissimo negli altri stati c'è anche l'editoria pura che qui in Italia purtroppo è una mosca bianca ci siamo in pochissimi che facciamo se sono editori puri ce ne sono pochissimi gli altri sono tutti a rischio di conflitto di interessi a sospetto di conflitto di interessi ed è difficile dire che non ci sia questo conflitto di interessi nel momento in cui quasi tutti i bilanci dei giornali sono in rosso e lo stipendio te lo paga chi ha interessi in altri campi io l'ho vissuto sulla mia pelle abbiamo fondato un giornale per il conflitto di interessi del nostro editore che ha provocato la nostra cacciata a proposito Renzi che fa il difensore della libertà di stampa dopo aver fatto cacciare Belpietro da libero fa abbastanza sorridere fatto cacciare Belpietro da libero la storia lei la conosce dovrebbe conoscerla onorevole faraone sa com'è andata la questione ed è una questione di commissione di interessi tra editoria e interessi industriali ma a me non risulta che Renzi abbia il potere di fare cacciare nessuno da nessun'altra parte io credo che questo sia un filone pericoloso cioè se ci infiliamo su questo filone ma non è poi posso diventa veramente poi potremmo allargare a tanti conflitti di interesse allora quindi evitiamo di continuare su questo filone i lettori possono comprare liberamente tutti i giornali che vogliono fortunatamente sapendo chi c'è dietro chi c'è davanti e cosa scrivono anche perché questo è scoperto non è che ci sono segreti su questo allora voglio però farvi vedere cosa sta succedendo nel porto di Genova è andato ieri nel porto di Genova il nostro Paolo Colombo perché insomma si cominciano ad avvertire gli effetti della crisi del Mar Rosso sapete con gli attacchi dei ribelli degli Uti ieri sono state prese di mila altre due navi americane insomma si è più che dimezzato il traffico marittimo commerciale nel Mar Rosso e quindi nel canale di Suez vediamo un olo verso l'Italia che fino a un mese e mezzo fa costava più o meno mille mille dollari oggi ne costa 5 mila quindi è quintuplicato in esportazione invece l'aumento intorno voglio dire a un 90% più contenuto costi dei nole e le stelle merci in ritardo questi sono gli effetti della crisi nel Mar Rosso dopo gli attacchi del gruppo Yemenita Iuti alle navi di trasporto marittimo all'ingresso dello stretto di Bab el-Mandab rotto obbligata per imboccare più a nord il canale di Suez se il 90% del volume degli scambi mondiali avviene via mare prima della crisi il 12% transitava per il canale di Suez per l'Italia numeri importanti con il 50% degli scambi via nave di cui il 40% tramite Suez soprattutto via mare transita più del 90% dei flussi italiani con i principali paesi ad est del Mar Rosso Asia e parte del Medio Oriente A metà gennaio il traffico di navi nel Mar Rosso è sceso del 55% rispetto al trimestre precedente visto che le porta contenere e le petroliere hanno deviato le rotte a sud del Capo di Buona Speranza con circa 15 giorni di navigazione in più e di rischio concreto di prediligere gli scali del nord Europa rispetto ad esempio a Genova il primo porto in Italia a livello contenitori il sesto a livello europeo anche se nel capoluogo Ligure si tende a sminuire il problema Noi riteniamo che il Mediterraneo debba continuare e sarà un mare centrale nello sviluppo dei traffici sicuramente del nord Italia ma anche del sud Europa Per i porti italiani a rischio sono le importazioni di petrolio e gas dagli Emirati Arabi Qatar, Iraq e Kuwait quelli di beni elettronici e apparecchi elettrici oltre alla metà infatti arriva dalla Cina e quelli di prodotti in pelle di cui quasi in terzo proviene dalla Cina a rischio invece l'export di macchinari prodotti in Italia soprattutto quelli destinati ai paesi asiatici la preoccupazione maggiore nel porto di Genova è quello di congestionare gli scali In particolare gli effetti sono quelli di ritardi di navi partite e che quindi si avvicenderanno a momento di forte congestionamento di lavoro di banchina con navi in banchina con lavoro importante sulla gestione dei piazzali per lo carico e lo scarico delle merci assecondati invece a momenti di minore operatività portuale In tutto questo a rimetterci è pure il PIL egiziano i transiti dal canale di Suez valgono il 10-12% del prodotto interno lordo il passaggio di una singola nave costa infatti dei 700 mila sino a 1 milione e 200 mila dollari non c'è solo l'import e l'export italiano in difficoltà il problema è mondiale e potrebbe aumentare se la crisi nel Mar Rosso non si dovesse risolvere in fretta Ecco adesso poi tra un attimo facciamo come dire un approfondimento su questo che è un pezzo diciamo una tessera del puzzle della crisi meteo orientale più in generale però intanto saluto Paolo Sottocorona Buongiorno situazione stazionaria stabile stazionaria stazionaria senza variazioni l'alta pressione che interessa il Mediterraneo centro-occidentale non si vede dalla foto ma si vedono gli effetti e gli effetti sono questi vedete assenza totale quasi totale di nuvole che quelle che arrivano dall'Atlantico passano a nord e poi scendono verso sud e quindi abbiamo ancora lo stesso tipo di tempo stabile relativamente caldo ovviamente con qualche velatura qua e là e questa è la previsione per oggi e vedrete molto simile anche per gli altri giorni vedete qualche velatura che interessa la Sardegna parte del Tirreno se no c'è lo Sereno i fenomeni al di là dell'arco alpino e lì restano perché non hanno la forza di superarlo domani giornata analoga quindi si spostano un po' queste quattro nuvole insomma poco più questo verde molto chiaro indica ipotetiche pioviggini quindi insomma non bisogna farci conto come quantità e poi la giornata di sabato sempre sullo stesso piano e vedete che tutto si mantiene le temperature massime si oscillano un poco intorno ai valori fra i 15 e i 16 gradi le minime come ripetiamo sempre dipende dal cielo col cielo sereno scendono un po' con quello nuvoloso salgono un po' ma insomma direi anche guardando lontano che non c'è aria di merla insomma non c'è di merla arriveranno questi giorni della merla grazie allora c'è il rischio che torni a salire era stata domata più o meno l'inflazione e soprattutto insomma si rincareranno ancora molti prodotti insomma che ci servono intanto già c'è l'aumento del gas per la crisi nel Mar Rosso ne parliamo dopo la pubblicità allora a proposito del caos nel Mar Rosso è appena arrivata la notizia arriva da confartigianato prime stime sulle conseguenze di quello che sta succedendo allora ammontano a 8,8 miliardi cioè 95 milioni al giorno i danni per il commercio estero italiano parliamo ovviamente del nostro paese tra novembre dello scorso anno e gennaio di quest'anno a causa appunto della crisi nel Mar Rosso tutto questo ha impatto sul nostro export confartigianato ha anche come dire vivisezionato i danni per le singole regioni italiane ricordando che il valore più alto di prodotti trasportati attraverso il Mar Rosso della Lombardia segue l'Emilia Romagna il Veneto la Toscana il Piemonte il Friuli Venezia Giulia insomma dati che trovate e insomma dice ancora confartigianato l'Italia ha perso 3,3 miliardi pari circa a 35 milioni al giorno riparto da Candiani tutto questo peserà e come lo dico così lei farà gli scongiuri su un PIL che si prevede asfittico per quest'anno la mettiamo così? No no non c'è niente da aggiungere è proprio corretto quello che dice tant'è che sul tema a me fa un po' specie pensare anche ai battibecchi di cui parlavamo prima a queste posizioni molto legate alla campagna elettorale delle prossime europee con ricerca di leadership di apparire nell'immagine quando nella sostanza abbiamo questo tipo di realtà dopodiché non possiamo chiamarci fuori non possiamo visto che siamo anche in tema di rinnovo del Parlamento europeo non ricordare che deve esserci anche una una funzione un ruolo da parte di questo organismo soprattutto da parte di questa istituzione che è l'Unione europea perché il paradosso reale è che ci troviamo adesso con con l'ultima uscita probabilmente ci troveremo un'azione trilaterale Italia Francia piuttosto che Germania che si aggiungono alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti però loro hanno una missione diciamo smaccatamente offensiva contro le poste questo dovrebbe essere una missione difensiva questo per dire che cosa qui non è che possiamo stare a guardare dobbiamo anche difendere i nostri interessi perché il fatto che possa non possa passare un bastimento che passi una porta container da Suez significa quello che abbiamo visto adesso cioè perdere delle cifre enormi di PIL e poi dall'altra parte non si può pretendere nel paese di riuscire a portare avanti anche delle politiche di risanamento piuttosto che di investimento possiamo dire che ci sono nubi all'orizzonte per la situazione internazionale ce li abbiamo ben presenti lo dico anche all'opposizione però attenzione a non speculare sperando che le cose vadano male perché così posso dire che il governo ha fallito gli obiettivi perché se gli obiettivi come quelli di sanità o come quelli di riforme istituzionali che stiamo facendo hanno la visione del quinquennio dobbiamo tenere conto e fare i conti anche con questo tipo di realtà che non sono certamente volute e desiderate Farone no mi verrebbe aggiungere sentendo adesso cosa ne pensa Farone oggi governare limitiamoci all'Europa nei principali paesi europei è complicato perché la situazione è molto complicata assolutamente sì sono d'accordo con Candiani che nessuno deve speculare quindi ci chiede di non fare quello che la Meloni ha fatto in tutti questi anni fino ad arrivare alle percentuali che ha ottenuto ma non è il nostro stile quello che posso dire due brevissime considerazioni la prima che la crisi internazionale ci impone scelte rapidissime perché l'instabilità è continua noi abbiamo spostato il trasferimento del gas dal Qatar anziché dalla Russia convinti che questo ci avrebbe garantito chissà per quanti anni e scoppia la crisi quindi vuol dire che noi abbiamo dei problemi da affrontare immediatamente la seconda questione è l'intervento dell'Europa io sono d'accordo con Candiani quando dice che l'intervento non può essere italiano ma europeo l'interesse è principalmente nostro perché i porti Ravenna Trieste Venezia che sono il primo approdo appena si arriva sul Dalmar Rosso e si attraversa il canale di Suez quindi paradossalmente ci potrebbero essere altri paesi europei che potrebbero vedere una convenienza nello spostamento dei traffici verso i porti del nord ma è così bene ma noi dobbiamo scherzarci già sta avvenendo in qualche modo quando noi parliamo di unione politica dell'Europa quando noi parliamo di elezione diretta del presidente del Consiglio Europeo quando noi pensiamo a una forza militare unica pensiamo a tutto questo proprio perché dobbiamo evitare quella deriva che Candiani ha paventato e che è una deriva su cui la Lega ci costruisce le sue fortune poi la direzione del presidente del Consiglio Europeo è interessante come posizione cerca di trovare simmetrie anche sul livello poi italiano nazionale abbiamo proposto per primi Faraone introduceva appunto questo discorso allora io vorrei ricordare due cose si citava l'Europa l'Europa non è un'entità astratti è un club di paesi con legittimi anche interessi di ognuno tutti i paesi europei sono in campagna elettorale nel senso in vista del voto di giugno questo tanto per ricordarci che non è solo una questione italiana e dico altre due cose stamattina Ursula von der Leyen si è rivolta ha parlato con gli agricoltori che sono in agitazione in molti paesi europei compresa l'Italia e ha detto bisogna ricorrere al dialogo superare questa polarizzazione e ha detto voi rivolgendosi se gli agricoltori meritate una giusta remunerazione per il vostro lavoro il nostro obiettivo è sostenere i vostri mezzi di sussistenza si di esistenza perché praticamente gli stiamo chiudendo rubinetto poi dico un'altra cosa chiunque lo può fare andando faccio un po' di pubblicità ma quando si fa pubblicità chi fa informazione secondo me è sempre diciamo è utile oggi su Waffington Post c'è un bell'articolo di Angela Mauro che parla di un sondaggio di uno studio su quello che avverrà in Europa col voto europeo siccome molti sondaggi di questi ultimi tempi danno l'Europa che verrà più o meno più o meno dal punto di vista della governance come quella di adesso questo sondaggio cambia un po' le carte in tavola perché dice guardate che una maggioranza di destra ovviamente partendo dal Partito Popolare Europeo è assolutamente possibile potrebbe esserci una brusca svolta dell'Europa questo è il punto di vista di chi scrive l'articolo magari Candiani dice magari quindi no no Pancani le aggiungo solo un tema di riflessione attenzione perché gli agricoltori in Germania e in Francia particolarmente in Germania non è che sono fazziti all'improvviso è che hanno detto a un certo punto basta perché con le politiche green spinte agli estremi ideologiche green qui stiamo perdendo veramente la capacità di coltivare a terra cose sulle quali noi abbiamo delle visioni differenti abbiamo anche delle condizioni differenti però quel problema lì la rivolta dei trattori non va sottovalutata perché dà l'idea di quanto le politiche ideologiche su cui si è spinta la maggioranza che adesso c'è a Bruxelles è rimasta distaccata dalla realtà dopodiché attenzione non possiamo lamentarci che perdiamo quattro di mercato che non riusciamo a coltivare la terra che nel caso specifico italiano abbandoniamo il territorio se poi si attuano politiche che portano gli agricoltori a chiudere bottega allora questa è la realtà che porta in Francia in Germania voglio sentire anche Lenzi su questo voglio dare però un dettaglio in più perché poi le notizie vanno spiegate lo studio è dell'European Council on Foreign Relations firmato da due politologi si intitola proprio una brusca svolta a destra una previsione per le elezioni del Parlamento europeo che cosa dice questo studio che i due gruppi sovranisti quello a cui aderisce la Lega Identità e Democrazia e quello dei conservatori riformisti che ha a capo proprio Giorgia Meloni usciranno molto rafforzati dalle urne del voto europeo e poi potete approfondirlo e insomma ma sai i pronostici nel calcio e in politica sono pronostici servono anche a muovere prima delle elezioni l'orientamento dell'elettore perché se c'è un elettore moderato e gli dici stravince la destra magari quello si asteneva lo spinge a votare sono un elemento di battaglia politica no due cose velocemente o lo spinge a votare gli avversari della destra ovviamente lo spinge a votare gli avversari della lega lo spinge magari anche ad avere fiducia che ci sia possibilità di una maggioranza lo spinge a votare i socialisti amici della lega anche i popolari però il sondaggio è anche una battaglia è anche una battaglia di prepartina che si gioca ormai Berlusconi in quello era maestro è stato maestro in Italia gli uti allora parliamoci chiaro quello è un capitolo non solo della guerra medio orientale no ma anche della guerra fra occidente e gli autoritarismi in particolare la Russia che ha invaso l'Ucraina e la Cina perché gli uti sono finanziati dall'Iran che ha un patto d'acciaio con Putin al quale dai droni Putin ha un patto d'acciaio con la Cina tant'è che hanno detto gli uti nonostante le cose che ha detto Candiani sui danni commerciali cinesi siano oggettive che hanno detto gli uti ma noi le navi russe e cinesi non le tocchiamo certo allora Washington sta provando da settimane a fare pressioni sulla Cina affinché dica all'Iran di finirla ma non se ne esce allora è chiaro che lì la partita ora diventa più complicato è un terzo capitolo di una guerra in corso a più facce per far capire la complessità e la missione che fa questa testa di ponte questa avanguardia europea Francia Italia Germania è anche un test importante per un'Europa che deve diventare adulta perché c'è una guerra nel suo continente ma l'ombrello è quello della Nato e degli americani non ci sono dubbi gli agricoltori c'entra anche lì la guerra perché è vero che gli agricoltori tedeschi ce l'hanno con le politiche grinde però l'Europa ha agevolato e di molto i prodotti agricoli ucraini perché c'è la guerra e perché devi sostenere un popolo invaso anche quello è un capitolo di questa storia puoi togliere gli aiuti all'igraini invasi no allora è chiaro che credo che persino la von der Leyen abbia capito che forse sul Green Deal anziché trasformarlo in ideologia in campagna elettorale anche lei qualche ritocco va fatto anche perché te tassi il diesel i sussidi non li puoi dare per sempre però le tasse le puoi non aumentare o abbassare c'è stata l'inflazione quindi lì qualcosa deve essere fatto vorrei sentire un fulmineo commento anche di Massimo De Manzoni su questa questione sottoscrivo ma aggiungo un tassello alla complessità se si genera di nuovo inflazione noi abbiamo la BCE che la governa e siccome la inflazione è indotta come era prima e la BCE invece la governa a colpi di rialzi dei tassi di interessi siamo tra due fuochi di nuovo il problema cioè oltre a quello che è stato detto il problema poi ce lo ritroviamo in casa perché se di fronte a un aumento dei prezzi la BCE aumenta i tasse siamo rovinati sarà molto interessante sentire oggi Christine Lagarde che terrà la consueta conferenza stampa dopo diciamo la decisione della BCE intanto scorgo tra le mani di David Parenzo alza alza le mani ormai ormai con la bandiera americana guarda ti devo confessare che ormai lo facciamo solo per te la mattina alle 7 con i nostri autori che cosa portiamo in dono all'ottimo pancani qual è l'oggetto siete molto carini molto affettuosi lo facciamo te lo giuro solo per te perdiamo ore la mattina su questo adesso ricambierò metterò anch'io un po' l'oggettistica odierna mi sembra di essere Vanna Marchi della puntata parte da qui da questa grande metafora i guantoni da box sono quelli degli Stati Uniti ma non parleremo di elezioni americane perché invece parliamo dello scontro che c'è stato ieri durissimo in aula tra la maggioranza e l'opposizione lo vedremo il centro-sinistra la Schlein in particolare ha scelto come terreno di sfida quello della sanità da qui riparteremo saranno con noi Flavia Perina Giovanna Vitale di Repubblica ne avete parlato anche voi Repubblica è nel mirino del Presidente del Consiglio e anche qui però bisogna andare a fondo gratta gratta sotto in realtà c'è uno scontro tra un gruppo editoriale importante che fa le domande fa anche una campagna di stampa come è legittimo che sia e dall'altra parte un governo che però non risponde nel merito il governo non ci ha detto se ad esempio è vero che lo Stato vuole vendere alcuni gioielli di famiglia per fare cassa alcuni pezzi alcune quote per carità mica tutte quindi questa è l'altra grande questione andremo poi a vedere a conoscere questo eroe mascherato che non è l'eroe della Marvel ma è Fleximan l'uomo o le donne o le persone non si sa chi sia esattamente che in queste settimane sta smontando segando gli autovelox la nostra Isabella Ciotti è in Veneto dove questo fenomeno è forte e poi sai lo scontro anche su questi 30 km all'ora è diventata la nuova grande campagna di salvire il ministro delle infrastrutture e dei trasporti allora vi faremo conoscere questo mondo che ruota intorno a Fleximan e poi chiuderemo con un grande ritorno in televisione Pier Ferdinando Casini sarà con noi alle 13 tra i grandi ospiti Luigi Crespi lo spin doctor che nasce comunista e che poi ha lavorato con Berlusconi e Giorgia Meloni eccolo lì in grandissima forma che salutiamo salutiamo sempre Crespi Crespi è uomo da combattimento è quello del contratto con gli italiani come ricorderai va bene ci rivediamo tra poco scontro maggioranza e opposizione con Meloni al centro che non risponde alle domande grazie grazie David ampia diciamo vetrina di quello che troverete tra poco nell'area che tira io saluto Massimo De Vanzoni grazie a Massimiliano Lenzi grazie a Davide Faraone grazie a voi grazie a Candiani grazie a Sara Manfuso noi siamo qui domani come sempre 9.40 adesso c'è la reghettira grazie